Il delegato si nasconde sempre nei miei handi, venga vicino alla norma, come vuoi, l'importanza è che stai. Ci staglio dritto, grazie. Dai che porta bene. Vai in fine. Venga l'ultimo sindaco con la bicicletta. Venga l'ultimo sindaco con la bicicletta. Giungono sani e salvi alla metà cigerata. A te gloria dei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica di onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Grazie. 25 anni fa, 26-24, c'era un uomo che girava da queste parti in bicicletta e vedeva il mondo dalla bicicletta. E una delle prime uscite con lui, proprio bisogna fare una pista ciclabile, allora non si parlava di ciclo pedonale, poi lui vedeva il mondo dalla bicicletta. La pista ciclabile sulla ferrovia che va, ed era felice giungo. La prima, sì, credo che a di là, ma anche questo è stato proprio, credo, uno dei primi, non oso dire il primo, proprio che ha pensato a questa possibilità per il nostro territorio. Fa una festa anche lui con noi oggi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.